E allora prendiamo nuovamente la linea dalla nostra postazione live qui alla Stella Azzurra, siamo nell'intervallo della gara da Checco dello Scapicollo e Languillara con i ragazzi di Checco dello Scapicollo che conducono intanto a commentare la prossima gara che lo vedrà impegnato, ci ha raggiunto Andrea Volpes del Why Not Andrea venite da una buona vittoria in apertura di questo torneo con la Capitolina, questa sera la possibilità di allungare in classifica Sì, speriamo di vincere, conosco un paio di loro, speriamo di vincere insomma Marconi che invece ha perso all'esordio, rimanendo in termini appunto di prime partite, un buonissimo avvio anche per te, una doppietta questa sera immagino avrei voglia di continuare insomma la striscia positiva Sì sì, speriamo che non so tanta arrabbiata che hanno perso la prima e che riesca a fare un altro paio di gol insomma Allora non ti trattengo di più, ti lascio alla preparazione della partita, ci vediamo ovviamente dopo